Ciao ragazzi, sono arrivato, sono pronto. Sai perché? No. Sai perché? No. You know because? Ma non sai perché? No. Dovresti saperlo, eh? Eh certo. Sai perché quando fa l'amore la moglie di Giuliano Ferrara preferisce stare sopra? No, non lo sapevi. Non lo sapevi? No, no, no. Ah, dovresti saperlo, eh? Ma come fai, eh? A non sapere una cosa del genere. Ehi, sai perché quando vedi una suona dici tua? Ma quando vedi una gnocca invece dici mia? Ah, non lo sapevi? No, no. Ah, ma dovresti saperlo, eh? È un dubbio amletico. Scusate per la parolaccia mia. Ah, certo, sì, no. Ehi, sono sempre io quello di sai, dovete saperlo. Oh, sai perché dal seno rifatto il latte esce con un leggero sapore di plastica? No. Ah, non lo sai? Ah, dovresti saperlo, eh? Ehi, lo sai come si chiamano quel tipo di tette lì? No? Le tette in tetapack. Ah, ecco, vedi quante cose si imparano. Quante cose imparano, eh? Eh, certo, vero, sì. Ma roba da matti, ragazzi. Sai? Sì. Sai? No. Ah, non sai? No. Ah, ma sei un non sapiente. Sì, sono un non sapiente. Sai perché la scala di Milano non è mai stata sostituita con un ascensore? No, infatti. Ah, non lo sai? Dovresti saperlo. Eh, certo, io vado sempre alla scala. Ci sono delle cose che è meglio saperne, vero Cassini? Ehi! Ehi! Sai perché se tuo figlio si chiude in bagno con un giornaletto porno, chiudi un occhio, ma se si chiude con la ferilli, cerchi di aprire la porta? No, guarda, non me lo so, non me lo chiedevo, ma non lo so. Ehi! Ehi! E vabbè, e allora, dovresti sapere queste cose? Eh, certo, figlio. Eh, torno tra un po' con altri, sai? No, perché? Lascia fare, meglio di nuovo. Sai perché? Magro Nascimento. Prova a prenderlo. Eh, quando?